salve a tutti amici e amiche nell'ultimo video che ho pubblicato in cui ho voluto fare un test in simulazione per aiutare a capire meglio la questione sollevata da andrea lombardi contro parabellum a proposito dei missili patriot ci sono stati molti commenti alcuni veramente interessanti altri con domande altrettanto valide vi ringrazio per la partecipazione e i like e il dibattito costruttivo perciò nel video di oggi cercherò di fare un ulteriore approfondimento sempre con un test come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale allora visto che in molti lo hanno chiesto il simulatore che utilizzo è quasi sempre digital combat simulator world mentre vi parlo passo in rassegna l'enciclopedia di questo e il mission editor su cui sto preparando il test che poi farò proprio col su cui 25 questo test servirà per dimostrare quanto avvicinarsi al fronte per un aereo che vola a bassa quota sia possibile nonostante le difese aeree e che questa pratica di volare bassi è la normalità per i piloti da combattimento niente di strano e ci sono dozzine di video in cui piloti reali volano anche più bassi di me poi sottolineo che dcs è uno strumento semiprofessionale e il miglior simulatore militare in circolazione non è un videogioco come uno nei commenti lo ha chiamato dicendo che non capisco nulla di queste cose usando un videogioco grazie faccio presente comunque che non sono un ragazzino quasi 50 anni comunque quindi prima di definirlo un videogioco vi ricordo che i simulatori per definizione sono strumenti didattici e di studio su cui si addestrano i piloti reali quanto gli appassionati tanto che oggi le ore in simulazione sono considerate certificate pari e propedeutiche al percorso in reale che fanno i piloti soprattutto sistemi di simulazione complessi e avanzati permettono di fare analisi quando non si hanno guerre su larga scala con dati statistici certi a cui fare riferimento sono strumenti molto utilizzati in via ufficiale e questo lo dico per esperienza perché molti dei siti e dei software che circolano in rete per quelle telemetrie derivano proprio da dcs quindi finita questa premessa aggiungo che il mio intervento nella diatriba che è nata fra il canale di andrea e parabellum non c'entra niente non sono qui per criticare l'operato di uno o dell'altro anzi sottolineo che entrambi hanno posto dei buoni spunti di riflessione ma ecco andrea secondo me ha fatto degli errori e sia chiaro non li fa sempre io mi riferisco solo a questo argomento di oggi dove ho notato errori tipici di chi fa i conti senza l'oste per intenderci per essere più precisi ha basato tutto l'impianto della sua critica a parabellum guardando il numero delle unità disponibili e i dati tecnici delle unità stesse ora non serve un genio per capire che le dinamiche della guerra aerea e dell'impiego dei sistemi missilistici è una materia molto complessa ed è molto diversa dai dati ufficiali proposti nelle tabelle e anche in testi importanti di riferimento che prendere i range massimi e i dati delle unità uscite fresche di fabbrica per definire il loro impiego non è un approccio realistico e non a caso per analizzare i dati tecnici le portate dei missili le loro velocità e capacità chi queste cose lo fa di mestiere prende questi dati sempre con le pinze si parla di stime e non ci sono dati statistici così certi da fare discorsi assoluti se un patriot o un s 300 ha distrutto un grosso aereo o un drone al suo range massimo non è detto che lo faccia sempre ogni circostanza è diversa e servono studi molto approfonditi nel tempo per fare dei ragionamenti più precisi e vi dico questo perché sono passati poco più di due anni di conflitto con l'utilizzo di queste armi quando prima il loro impiego così intensivo era considerato fantasia quasi un discorso di fantascienza e le stime e i dati tecnici erano noti solo agli ambienti di simulazione militare quindi due anni di conflitto ci dicono qualcosa ma non tutto possiamo farci un'idea ma come ho detto per studi e analisi storiche ci vorranno esperti e molti anni di studio esattamente come avviene poi per le stime delle vittime di guerra quando si parla di missili e il loro impiego le variabili poi sono tantissime basta veramente poco a deteriorare le loro prestazioni i range e le capacità in generale fattori come ostacoli naturali condizioni atmosferiche densità dell'aria non ultima la condizione è l'usura dei materiali del propellente i malfunzionamenti tutte queste cose incidono nel comportamento del missile ma soprattutto non si possono fare ragionamenti sul range senza considerare che il bersaglio da colpire si sta muovendo a quel punto se è un aereo che si muove fa delle traiettorie imprevedibili i discorsi sui range si possono buttare nel cestino quindi capirete che queste variabili non sono da poco e a questo poi bisogna aggiungere il fattore umano che incide sopra ogni altra cosa una piattaforma come il patriot nasce come sistema antimissile ma può essere impiegata anche contro aerei ha degli automatismi ma non tutti tutti questi sistemi sono controllati da operatori che autorizzano autorizzano il lancio fanno delle valutazioni possono essere efficienti ma possono anche sbagliare altre piattaforme come per esempio gli s 300 su cui andrea si è particolarmente accanito non sono paragonabili al patriot sono sistemi antiaerei pensati per essere un deterrente in tempo di pace ma con un impiego relativamente utile in uno scenario di guerra aperta il posizionamento di questi scudi missilistici a lungo raggio di fatto chiude lo spazio aereo in generale per velivoli che vogliono violare quello spazio aereo ad alta quota ma come ho spiegato e dimostrato anche nel video precedente questa applicazione va totalmente ridimensionata per gli aerei che volano a bassa quota da oltre due anni di conflitto lo spazio aereo ucraino è chiuso e si vede questo dipende appunto dal numero di s 300 schierati in campo ma questo impedisce i raid russi sul confine ovviamente no su questo argomento ho notato una certa confusione o meglio poca conoscenza di come si è evoluta la disciplina della guerra aerea per le operazioni di attacco al suolo negli ultimi 70 anni con l'avvento dei missili cioè già dalla guerra del vietnam fu subito chiaro che per colpire obiettivi sensibili come piste e centri di comando l'approccio che si era visto fino ad allora dei grandi bombardieri era impossibile gli americani persero 15 b 52 sei in un solo giorno a causa dei primi sa due russi consegnati a vietnam del nord questo vi dà un'idea di come questi sistemi siano efficaci contro i grandi bombardieri per questo motivo da quei giorni il bombardamento strategico è cambiato e soprattutto oggi quando si guardano vecchie glorie della guerra fredda che rappresentano ancora il grosso della flotta da bombardamento russo bisogna considerare che questi aerei di fatti di fatto non possono volare sopra l'ucraina cioè non sono in grado di sorvolare lo spazio aereo nemico a meno che prima del loro passaggio non sia stata fatta una bonifica dei sistemi antimissili antimissile questa bonifica prende il nome di sead sead e non intendo una singola missione davanti a questi bombardieri ma proprio la distruzione sistematica di tutte le possibili minacce per questi aeroplani che sono estremamente vulnerabili quindi dagli anni 60 proprio in virtù di questi enormi cambiamenti tecnologici la risposta a queste minacce missilistiche fu quella di costruire aerei capaci di volare a bassa quota e di colpire quegli obiettivi che seppur protetti dalle grandi postazioni erano importanti come appunto piste bunker ponti e altre strutture rilevanti nascevano così tutta una serie di aerei d'attacco al suolo dedicati ne cito giusto alcuni più rappresentativi come le f111 il vigen svedese il su 25 russo il tornado aerei veloci in grado di seguire il terreno a bassa quota penetrare nello spazio aereo nemico e colpire dove necessario il su 25 in particolare fra tutti gli aerei russi è ancora oggi considerato come il velivolo d'attacco al suolo più versatile ed efficiente per compiere proprio la delicata missione di bonifica delle minacce sem oltre ad avere capacità di strike e anticarro andrea qui ha citato spesso la cosiddetta cas ma deve sapere che questa missione è principalmente nelle corde di alcuni elicotteri d'attacco e la 10 americano è una missione che si può fare solo quando nell'area non sono presenti presenti minacce per questi velivoli quindi è proprio sul su 25 che ci concentreremo oggi dal momento che negli ultimi giorni russi ma anche gli ucraini in questi due anni lo hanno usato e continuano a usarlo sulla linea del confine e al ridosso del fronte ma voi direte a questo punto quindi basta volare bassi per fregarsene di patriot s 300 e compagnatico la risposta è no perché altrimenti qualsiasi postazione sem radar sarebbe completamente inutile per proteggere queste postazioni e per rendere più difficile e pericoloso il volo degli aerei militari a bassa quota esistono tutta una serie di sem pensati proprio per questo lavoro da parte russa il più importante è sicuramente il sa 15 detto tor questo semovente su cingoli ha otto lanciatori per la difesa di punto antimissile e antibomba è un'unità fondamentale per gli assetti russi diciamo che una postazione s 300 quella a lungo raggio senza qualche sa 15 che possa difenderle difenderla potrebbe essere distrutta anche dall'aereo di paperino a cannonate per intenderci perché è troppo vulnerabile allo stesso modo sa 6 sa 8 sa 19 sono tutti i sistemi che combinano antenne radar con guide dei missili di tipo radio o teleguidati che servono proprio a fortificare la difesa a lungo raggio e combinano capacità di difesa antimissile e antiaerea a cortissimo e medio raggio proprio per fortificare i grandi scudi missilistici degli s 300 e le versioni successive quindi se mi avete seguito fino a questo punto e in risposta al video di andrea l'ucraina dichiarava oltre 200 unità di s 300 all'inizio del conflitto numero che a quanto pare ha fatto davvero impressione ad andrea dicendo che l'ucraina è il paese con più difesa del mondo dopo gli stati uniti ma evidentemente non ha capito che quel numero si riferisce ai lanciatori non a tutto il sistema che diciamo in teoria dovrebbe essere compreso fra i due e i cinque pezzi in totale dove per ogni sistema c'è un'antenna radar di ricerca una di tracciamento una di coordinamento quindi per essere più precisi e fare una stima molto ottimistica di unità s 300 operative in ucraina nel 2021 quel numero andrebbe diviso per tre o quattro quindi una cinquantina in totale non 200 il semplice camion con i quattro lanciatori non è un'unità s 300 è una parte di questa infatti quel camion con il lanciatore non può fare niente da solo non può lanciare missili non può fare nulla non può farlo senza le unità di controllo e ricerca e tracciamento che sono appunto deputate alla guida dei missili e alla scansione quindi pur restando di manica larga il numero sarà stato di una cinquantina di sistemi completi di s 300 disponibili e questi non sa di questi fra l'altro non sappiamo quanti effettivamente erano operativi la linea di produzione del 300 è iniziata nel 1978 ed è ferma dal 2011 sono passati troppi anni per un missile così grosso e delicato penso onestamente che gli addetti e le batterie si siano fatti il segno della croce tutte le volte che ne partiva uno le altre unità russe dichiarate nella tabella che ha mostrato andrea sono invece quello che avrebbe dovuto fargli capire meglio la situazione e non a caso mirko lo ha fatto perché proprio quelle unità sono molto più importanti di quello che sembra e servivano a difendere gli s 300 con 72 sa 11 book anche qui faccio presente che vale lo stesso discorso per gli s 300 le unità book non operano da sole quindi questo numero andrebbe diviso per tre se non di più anche considerandole tutte funzionanti saranno state una ventina in totale e poi badate bene l'ucraina disponeva di soli 6 sa 15 tor questi si sono unità singole e indipendenti è chiaro cioè una cinquantina di s 300 protette da una ventina di sa 11 e 6 sa 15 per una nazione enorme come l'ucraina capirete che siamo molto molto lontani dal discorso che fa andrea nel tentativo di contraddire parabellum e probabilmente mirko queste cose le sa cioè voglio dire credo che il suo staff conosca come si compongono le unità di cui stiamo parlando si sa per certo poi che in due anni di conflitto molti dei vecchi s 300 ucraini sono stati distrutti e non sappiamo il numero di missili ancora disponibili dato che queste forniture si sono interrotte da anni è presumibile quindi che queste unità siano state schierate molto in profondità in territorio ucraino per proteggere obiettivi più importanti come centri logistici infrastrutture e aeroporti e le grandi città ma come ho spiegato nel video precedente non sono schierate ridosse del fronte e non possono esserlo la capacità offensiva contro aerei militari di questi sistemi per essere realistici è di circa 120 chilometri certo in rete troverete dati che parlano di 400 chilometri ma questo vale per l'ultima variante con il missile più moderno e i test prodotti a freddo contro droni bersaglio poi oltre a questi che ho citato esiste tutta una serie di sem più subdoli che sono pensati per intercettare proprio gli aerei che volano a bassa quota in questa classe abbiamo tutti gli strela e i derivati sa 13 un mezzo che può lanciare quattro piccoli missili infrarossi e poi ogni soldato che può lanciare missili spalleggiabili di tipo igla o sting e poi ci sono chiaramente pezzi contro aerei alcuni molto cattivi come sa 19 tundu tunguska oppure altri molto più vecchi come zs u23 shilka e ancora pezzi ancora più datati come z u23 che possono essere montati su camion o su postazioni fisse questi ultimi possono essere efficaci contro elicotteri o velivoli lenti ma contro aerei lasciano un po il tempo che trovano per capire quindi il quadro complessivo della capacità di difesa antiaerea ucraina dall'inizio del conflitto esclusa la presenza degli s-300 bisogna immaginarla non tanto migliore di quella dell'irak della prima guerra del golfo è più o meno in linea con gli assetti tipici di un paese dell'ex unione sovietica ma dato il suo ruolo strategico e l'enorme estensione del territorio magari disponeva di qualche decina di unità in più quindi siamo molto lontani dalle affermazioni di andrea per cui sarebbe stata seconda solo a quella degli stati uniti dal 2023 sono arrivate forniture nato e i numeri che vi sto per dire confermano l'orientamento di questi assetti con 12 sistemi patriot 6 iris t a medio raggio 4 hoc a medio raggio 9 nasams a corto raggio poi gepard e altri piccoli mezzi che rappresentano un po gli analoghi degli strela come l'avenger in mistral eccetera eccetera in sostanza quello che lo stesso andrea ha proposto nella sua tabella è una sostituzione progressiva dei pezzi russi andati distrutti in due anni di conflitto e in linea di massima conferma lo stallo della situazione attuale e quindi non aggiunge niente di strabiliante a quanto detto anche da parabellum ne lo contraddice ora parliamo del su 25 questo aereo piuttosto brutto anche bello ma brutto ma estremamente efficiente per certi aspetti è simile alla 10 americano almeno come concezione anche se nascono per due ruoli molto diversi possono fare anche ruoli simili il su 25 ha una varietà di armamento pensato soprattutto per la siad con capacità anti carro un sensore televisivo e telemetro laser e missili guidati e non guidati più tutta la varietà di bombe tipica russa a caduta libera con diverse tipologie di munizionamento nelle immagini che circolano in questi giorni che lasciano perplesso andrea che non spiega perché questi aerei non vengono abbattuti dai sem si vedono le tattiche che ho descritto né più meno nel video precedente i piloti russi arrivano bassi sfruttano il terreno e nel momento in cui sorvolano la feba cioè il territorio conteso lanciano le loro contromisure eseguono la loft bombing cioè salgono e sganciano e poi se ne vanno molto spesso non impiegano neanche armi complesse semplicemente lanciano grandi quantità di razzi non guidati uno dei grossi vantaggi di questo aereo è che riduce il rischio di essere abbattuto perché ha un disturbatore elettronico posto in coda che disorienta i missili termici quando questi gli vengono lanciati da ore 6 non avendo un post bruciatore è un freddo quindi è più difficile da agganciare e può portare una marea di contromisure l'aereo poi è molto robusto è corazzato può incassare colpi di antiaerea o missili piccoli missili in realtà è riuscire qualche volta anche a tornare alla base e questo è quanto quindi per concludere gli ucraini non sono il paese più forte del mondo dopo gli stati uniti e i piloti militari studiano e applicano strategie per eludere le difese aeree fin dagli albori dell'aviazione militare per produrre video di analisi militare non basta consultare testi e notizie fresche su internet è sempre bene parlare con le persone che lo fanno di mestiere o conoscono queste cose da più tempo ci si confronta si incrociano i dati e per commentare notizie fresche di conflitti in corso bisogna fare molta attenzione a non fare confusione fra le stime i dati ufficiali è la propaganda e bisogna anche riconoscere i propri limiti ed essere capaci di correggersi e fare un passo indietro quando si commettono errori detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima